E di tre morti e dieci feriti il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 18 e 30 lungo la A16 in direzione sud tra Candela e Cerignola. Le vittime sono tre suore brasiliane appartenenti all'ordine dei salesiani dei Sacri Cuori dell' istituto di Bari. Viaggiavano su un minibus guidato da una di loro uscito di strada e finito tragicamente in una scarpata. Altre dieci con sorelle che erano con loro a bordo del mezzo sono rimaste ferite. La compagnia era di ritorno da Formia in provincia di Latina dove aveva partecipato ad alcuni esercizi spirituali. Il bus avrebbe dovuto fare tappa a Barletta e Bari per lasciare le religiose nei rispettivi istituti di residenza per poi arrivare a Lecce dove era diretta la madre superiore. Poco prima di raggiungere il casello di Cerignola a Ovest il veicolo è uscito improvvisamente di strada probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Si è ribaltato dopo aver sfondato il guardrail ed ha terminato la sua corsa in una scarpata. Una carambola che è risultata fatale per tre delle sorelle morte sul colpo. Altre dieci sono rimaste ferite e alcune in modo lieve altre in maniera più grave. Tra di loro anche una salesiana di casa nell'istituto di Barletta. Soccorse dal personale del 118 le religiose sono state trasferite in ambulanza ed in elicottero negli ospedali di Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Assieme ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi delle vittime dalle lamiere con l'ausilio di un autogru ed un'unità dell'elisoccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e il personale di autostrade per l'Italia. La circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore con una lunga fila di auto in coda fino a tarda serata. In base a quanto si è appreso le sue ore si sarebbero dovute mettere in viaggio questa mattina. Poi nel timore di trovare traffico possibili blocchi stradali degli autotrasportatori in sciopero per via del caro carburanti hanno deciso di anticipare la partenza ma purtroppo non sono mai arrivati a destinazione.